Bruno Editore presenta Giovani imprenditori Come far sbocciare la tua impresa tra potenzialità, burocrazia e modelli vincenti Di Vittorio San Giorgio Introduzione Ogni giorno sul nostro caro bel paese, la nostra patria, se ne dicono tante Dalle tv e dai giornali sentiamo parlare di un paese che è in difficoltà Mi sono chiesto se è proprio così come ci dicono i media O forse, nonostante le difficoltà di una crisi globale Il nostro paese ha ancora le carte in regola per rilanciarsi e rispolverare quel lustro di paese leader in tutti i campi Dalla cultura all'ambiente, dall'arte all'economia E per far nascere imprenditori capaci di generare rivoluzioni di pensiero e costruire grandi imprese cambiando la sorte di interi territori Ho cercato di dare risposta a tutto ciò analizzando una generazione, quella degli under 35, la mia Per capire dove sta andando e soprattutto cosa questo paese le può offrire per potersi esprimere Contribuendo così a ripristinare quell'Italia che, quando fa l'Italia, vince Mi soffermerò sulle potenzialità del sistema paese Quell'Italia dei miti, che spesso commette l'errore di pensare troppo al passato che è stato Intimorita da un futuro che non riesce a far suo Ma al tempo stesso generatrice di mille opportunità per chi ci vuol provare La prima opportunità è proprio quella di accettare la sfida di non cercare fortuna lontano dalla propria terra Ma capire che, girando il mondo, ci si accorge spesso che le nostre grandi meraviglie ce le invidiano tutti Chi è il giovane a cui mi rivolgo? È colui che ha accettato la sfida di voler cambiare se stesso Che non vuole subire quello che l'ambiente circostante quotidianamente gli inculca nella testa Dicendogli che qui non c'è futuro, che tutto va male, c'è la crisi e bisogna andar via Colui che è un forte sostenitore del pensiero che il rilancio di un paese Si può attuare innanzitutto dando fiducia ad una generazione che crede nei valori dell'identità Dell'impegno, della passione e del sacrificio Ma mi rivolgo anche a chi è giovane e di testa nonostante i capelli bianchi A chi ha ancora la voglia di ricominciare dopo essere caduto più volte A chi sa che, con un po' di impegno, ce la si può fare Mi rivolgo a colui che, consapevolmente, si accorge che tutti quelli che si lamentano Lo fanno perché non vogliono impegnarsi per migliorare Che non vogliono crescere e dare il proprio contributo Affinché poi tutti possano sentirsi soddisfatti ed orgogliosi per quello che sono Sentendosi giustificati perché si aspettano lo stesso dagli altri Quell'avere l'alibi del non fare perché tutti fanno così Io a tutto questo ho detto no E insieme a voi voglio intraprendere un viaggio nell'Italia che ce la fa Quell'Italia che dà speranza ai giovani Semplicemente perché quei giovani sanno che la speranza vera Dipende dal loro impegno e non da quello che il prossimo può fare per loro Che il viaggio cominci e, insieme ad esso, anche la nostra prima piccola rivoluzione Quella del nostro cuore, della nostra passione È impegnativo? Sì È impossibile? No Buon apprendimento con l'augurio che tu possa diventare imprenditore del tuo destino Grazie a tutti